Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, ancora maltempo sulla Liguria, modificata anche l'allerta meteo per neve, inchiusura alle 15 sui comuni costieri della zona B e sulla zona D, invece alle 18 per i comuni interni della zona B e i comuni interni della zona C, la zona E chiude alle 18 in giallo dopo aver terminato l'arancione alle 15. Nel dettaglio, questa fase di maltempo sta proseguendo ancora con una pausa prevista per la giornata di domani, giovedì, in particolare per la mattinata, quando il tempo sarà soleggiato. Poi dal pomeriggio progressivo aumento delle nubi, deciso peggioramento, venerdì precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso sui versanti padani del Savonese. Il dettaglio oggi, mercoledì 30 gennaio, giornata grigia perturbata, con deboli precipitazioni diffuse sul centro levante della regione, anche a carattere nevoso nelle zone interne. Non si escludono deboli sconfinamenti costieri sulle zone collinari del centro della regione, schiarite nel corso del pomeriggio a Ponente, venti tra moderati e forti, settentrionali con grafiche fino a 70-90 km orari, in particolare su Crinali e allo sbocco delle valli esposte. Mare da mosso, molto mosso a Levante, da mosso a localmente molto mosso a Ponente, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 5 e 7 gradi nelle zone interne tra 0 e 4 gradi. Domani, giovedì 31 gennaio, mattinata in prevalenza soleggiata con qualche addensamento sparso, anche consistente. Aumento delle nubi e peggioramento delle condizioni in metro nel corso del pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni sparse anche a carattere di spolverata nevosa sui versanti padani. Venti in mattinata tra deboli e moderati settentrionali, in rinforzo fino a forti sul centro ponente nel corso del pomeriggio. Mare molto mosso a Levante, tramosso e molto mosso a Ponente. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 3 e 5 gradi nelle zone interne, intorno a meno 1 e 0 gradi. Massimi in aumento lungo la costa intorno a 7 e 8 gradi nelle zone interne tra 1 e 4 gradi. Dopodomani, venerdì, primo febbraio, l'arrivo di una perturbazione porta a precipitazioni diffuse su tutta la regione, più insistenti sul Levante, anche a carattere di rovescio temporale al più moderato. Sui versanti padani del Savonese le precipitazioni assumeranno carattere nevoso. Venti forti settentrionali a Ponente, meridionali tra moderati e forti a Levante. Mare in aumento fino a molto mosso a Ponente, fino ad agitato a Levante, in particolare sullo spezzino. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 5 e 7 gradi nelle zone interne tra 1 e 5 gradi. Massimi in aumento lungo la costa tra 8 e 10 gradi nelle zone interne tra 3 e 8 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci. Grazie! 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 Grazie!